L'azienda frigo-meccanica opera nel settore della tecnologia e design per la produzione dell'arredo commerciale. I nostri clienti sono i rivenditori di arredi commerciali e refrigerazione commerciale, oltre agli utenti finali, che sono i proprietari di gelaterie, pasticcerie, bar, panetterie e quant'altro attinente al food. Le novità che presentiamo al Stiger sono, per quanto riguarda la tecnologia, presentiamo tre nuove vetrine refrigerate per gelaterie e pasticcerie, che sono la Lux, la Desi, la Drop Ice e unitamente a queste tre vetrine un nuovo sistema di tecnologia, il Frigo Connect, che è l'internet delle cose, l'IoT, è un controllo remoto di interazione tra vetrina e uomo, con bidirezionale, rispondente alle caratteristiche dell'industria 4.0. Per quanto riguarda invece l'altro prodotto di punta di frigo-meccanica, cioè l'arredo bar, l'arredo bar e pasticceria, presentiamo due nuove linee di arredi, che sono la linea Harris e Cargo. Sigepp è una fiera importantissima, perché è una fiera internazionale, credo sia la fiera di riferimento mondiale per il gelato e la pasticceria, e quindi noi è importante che, come da sempre, partecipiamo a queste manifestazioni, che ci siamo anche quest'anno e di esserci anche gli altri anni. Credo che quest'anno sarà un'edizione particolarmente interessante, perché vediamo che c'è una bella ripresa nel settore, guardando anche i risultati a due cifre dell'anno precedente, quindi speriamo di replicare per il 2019 la stessa cosa, grazie anche a Sigepp. Essendo una fiera internazionale, Frigo-meccanica viene a Sigepp per intercettare quelli che sono i rivenditori nei vari continenti partecipanti a questa fiera. Credo che questo servizio offerto dall'ente fiera Rimini sia molto importante e che vada anzi incrementato e migliorato nel tempo. Noi abbiamo diversi clienti e buyer già in parecchi continenti del mondo, cerchiamo di incrementare, speriamo di incrementare soprattutto nell'est asiatico, Cina e mercati un po' più lontani di quelli storicamente di nostro interesse. Grazie a tutti.